C'è che dentro ci sia una riproduzione della chiesa, io ho guardato qua ma questa non mi sembra la chiesa parrocchiale. Il Conte Molo è stato uno degli autori che ha sovvenzionato la costruzione della chiesa nel 1700. Il 1735 l'hanno fatta e ce n'era una sempre dedicata a San Martino già di due secoli prima, del 500. E' stata ampliata e poi è stata ulteriormente ampliata negli anni 40 del 1900. Poi volevo far vedere un'ultima cosa sulla Fisogni, se giri ancora la pagina, questo è molto bello. No, questo qua non è originale, questo qua l'hanno fatto loro i Fisogni nel 1900 perché lì era praticamente delle scuderie che poi è stato trasformato a sala di ricevimento dove facevano lavoro. Questo non è originale così dall'epoca. Grazie.